Dai! Ammazzerai qualcuno! Dai! Dai! Lappa! 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 Mistios, ho un lavoro per te. Innescherai la scintilla della rivoluzione? Scatenerò la guerra per te, ma prima mi servono altre informazioni. Prima di scatenare la guerra ci serve il tuo aiuto per indebolire Gortina. Distruggi le scorte, ruba le merci preziose e uccidi quel malaca dell'Araldo. Dove posso trovare l'Araldo in visita? Di notte l'Uomo di Pace alloggia nella casa del capo e di giorno gira per Gortina. Uccidilo e la colpa ricadrà su Gortina. Parlami delle scorte che dovrei distruggere. Dobbiamo distruggere le rastrelliere d'armi e le scorte di Forte d'Aedalo per assicurarci che non vincano la guerra. Ci sono molte merci preziose da trovare a Forte d'Aedalo. Depredarlo danneggerà enormemente lo sforzo ballico di Gortina. Scatenerò questa guerra per te. Spero che tu sappia quello che fai. Pianifichiamo da tempo questa mossa. Torna da me quando avrai finito. Lo vedo. Torna da me quando avrai finito. Torna da me quando avrai finito. Ehi pri volunteering. Non troDA da me quando avrai finito. Per i erbone. E, ti sinnevimo alli? Tutto. Per i erbone. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che succede qui? Che succede qui? Che succede qui?